I tifosi per l'Italia, adesso con gli italiani mi sono un po' di difficoltà. Adesso c'è una netta mandoranza di tambiene, due gialle, di compro di testa di acerdi. O Cartesi, Raspadoni, Venezia, no, Cartesi, a piccola chiesa, osservo il Cartesi. Chiesa punta da avversare, un nome per Madella. Andare, forse, dopo,順are, giallati, l'arbitro di avversi, dice che si può proseguire, chiesa grossa, iniezione calcio d'angolo. Dispida, potenza, risulta, dopo, con i bracciaci, schimbata, le giuratore del Dottorio e Ucra, non lo so, un'esercice. Senta, ascia, ascia... che potessero reagire con più buone l'Italia e quindi intanto vi rivediamo quando su del corpo è troppo centralmente l'Ugine delle prime nuove posizioni da parte proprio di Sfadoli, di Marco ancora da Sfadoli si sparca Giorgino su, su l'Ugine della perfezione la vista è un po' l'ultimo che era coperto te lo vedo senza esclusione di compito una parte all'altra